Penso che siamo in un bel momento, stiamo lavorando bene anche, è certo che abbiamo avuto una settimana un po' più libera per la nazionale e niente, con voglia di affrontare la partita del sabato. Ho lavorato un po' di forza, tutto quello che si fa nella settimana libera quando non ci sono i giocatori della nazionale e niente, abbiamo detto prima con voglia di affrontare già la partita del sabato. Bene, è una partita che soprattutto per i giocatori che non giocano tanto durante l'anno è una partita per prendere minuti e soprattutto per prendere sensazioni e dedicare a quello che viene qua alla fine e niente, speriamo che il sabato giocare una bella partita e soprattutto vincere. Siamo un gruppo, siamo una famiglia e ogni giocatore è certo che vuole giocare, è normale, no? Penso che il mister sa che quando fa qualche cambio sempre il giocatore risponde e niente, il mister sempre è carico, non si ferma un giorno e questo le fa bene alla squadra. Amati ha avuto l'infortuna di stare fermato tanto tempo, adesso è tornato e lo vediamo bene. Penso che un giocatore che può giocare tanto a questa squadra magari può entrare da qua alla fine. Chris penso che tutti sappiamo che è il giocatore che abbiamo in questa squadra, è un giocatore fortissimo, anche un giocatore fuori dal campo, è bravissimo, è una bravissima persona e niente. Piante penso che può aiutare molto a questa squadra. Cial è un grandissimo giocatore, anche con lui fuori dal campo è una relazione diversa perché scherziamo tanto, è una bravissima persona e anche lui aiuta tanto a questa squadra. Penso che si vede la voglia di questa squadra e che vogliamo stare alla fine della stazione a Champions, restare a Champions. Penso che siamo vicini al nostro obiettivo e speriamo di poter giocare a Champions l'anno prossimo. Per i calciatori, soprattutto se vengono nuove una squadra, lo più importante è giocare con continuità per sentirsi bene. Il mister sa che posso aiutare la squadra quando lui vuole. Loro sono una squadra che gioca molto bene, l'abbiamo visto anche in Coppa Italia e vediamo la partita come va, penso che l'abbiamo preparato bene e penso che andrà bene. È un giocatore troppo forte, lo ha dimostrato anche con l'età che ha e dobbiamo stare attenti con lui.